Siamo qui con il professor Alfredo Rossi, dermatologo responsabile del centro degli annessi cutanei del Policlinico Umberto I di Roma. Che cos'è l'alopecia areata? L'alopecia areata oggi è giudicata una malattia autoimmune, autoimmune e autoinfiammatoria, quindi non è più una malattia relegata allo stress, ma ha delle veri basi patogenetiche su quali noi possiamo lavorare da un punto di vista terapeutico. Che cos'è in comune con la dermatite atopica? Con la dermatite atopica ha in comune l'autoimmunità, ha in comune l'infiammazione, ha in comune i sintomi. Perché? Perché mentre nell'una si ha la perdita di capelli, nell'altra si ha l'eczema e il prurito che sono sintomi visibili all'esterno, quindi che conducono questi pazienti ad un grosso disagio psicologico. Pertanto le due malattie hanno anche in comune il fatto di essere croniche, per cui vanno curate sempre. Ad oggi non c'è un farmaco che guarisce le due malattie. La possibilità e la conoscenza della patogenesi ha portato all'utilizzo di alcuni farmaci che oggi ovviamente trovano nelle due condizioni la possibilità di dare una remissione più lunga di malattie e quindi consentire al paziente di essere più libero della sua malattia. Questi sono i GEC inibitori. Ci può parlare dei GEC inibitori? I GEC inibitori sono una classe di farmaci che riducono l'attività dei linfociti, di cui queste due malattie hanno il loro importante impatto patogenetico. Per cui bloccando la produzione dei linfociti, le due malattie ovviamente si bloccano e quindi vanno in remissione. Tra questi, per quanto riguarda l'alopecia areata, abbiamo il primo farmaco che è stato approvato e dispensato dal sistema nazionale che si chiama baricitinib. Questa molecola è in grado, nell'alopecia areata, di bloccare la produzione di linfociti e quindi l'aggressione verso il follicolo pilifero che produce il pelo. Questo ovviamente che cosa ha portato? Ha portato a un miglioramento dei tempi di guarigione. A sapere che un tot numero di pazienti, che in questo caso, visto gli studi effettuati sulla molecola, sono stati circa il 40%, ma quel 40% probabilmente nella real life aumenterà, perché ovviamente sono stati presi pazienti gravi e molto gravi. Quindi immaginiamo di poter estendere questo farmaco a pazienti che hanno forme più lievi, forme attive, quindi i tempi di guarigione si accorceranno, i tempi di emissione si allungheranno e quindi abbiamo cambiato la vita di questi pazienti, soprattutto da un punto di vista della psicologia, oltre che della malattia proprio. Analogamente lo possiamo fare con la dermatite atopica, perché utilizza gli stessi farmaci. Lo stesso baricitine può essere utilizzato nella dermatite atopica, proprio allo stesso scopo, ridurre i sintomi, migliorare la qualità di vita del paziente e quindi allungare i tempi di rimissione della malattia. Grazie a tutti.